Triumph ha fatto proprio un ottimo lavoro con la Street Scrambler, lo ha avuto in prova per la giornata grazie a Bolton Motorcycles per analizzarla in dettaglio e farne una recensione approfondita. Ma prima di iniziare ti ricordo che se sei nuovo e vuoi vedere più video di questo genere qua, recensioni, notizie e consigli personali sull'acquisto iscriviti a questo canale, metti mi piace a questo video che aiuta tantissimo e segui anche su Instagram gm.moto. La linea Bonneville di Triumph è assolutamente fantastica, le modern classic retro sono stilose e restano fedeli al passato nonostante le loro tecnologie moderne. La Street Scrambler non è affatto l'eccezione, anche se è una moto di medio livello, Triumph è riuscita anche ad aggiungere un minimo di equipaggiamento di sicurezza di serie. Sono riuscito ad apprezzare la Scrambler già da subito, infatti è una di quelle moto che non c'è bisogno di adattarsi ad essa, piuttosto lei si adatta a te. Sarà la combinazione della posizione del manubrio, pedane e sella che mi ha da subito rilassato, i comandi sono in una posizione media favorendo proprio il comfort, in più il manubrio a presa alta da stile enduro rende la schiena perfettamente dritta. Ma ciò che mi ha da subito preoccupato è stato il davanti con la ruta da 19, credevo fosse tanto più difficile la sua guida, ma non l'è stato assolutamente. Non solo la Scramblerina di Triumph è stata capace di sorprendermi in curva, ma mi ha anche ispirato tanta fiducia proprio dall'anteriore. Nonostante sia dotata di forcelle Kayaba da 41 mm convenzionali, queste sembrano essere settate proprio per la guida stradale piuttosto che il fuoristrada. Lo stile di guida offerto infatti è fuori dagli schemi per una Scrambler, ma lo preferisco personalmente. Oltre questo, al posteriore l'ammortizzatore Kayaba è regolabile nel precarico. Questa impostazione ha offerto nel misto un buon comportamento, composto ed educato per l'inglesina. Oltretutto c'è tanto feeling su entrambe le estremità, cosa che ho apprezzato tanto, specialmente quando desideravo di più di ciò che magari la Scrambler mi poteva offrire. Il pensiero di essere su una moto piccola con una guida sgorbutica si è subito sostituito con un piacere alla guida spensierato e semplice. Avrei però voluto di più dal freno anteriore, c'è buona potenza frenante offerta dal singolo disco da 310 mm con pinza Nissin su questo modello in prova, ma il nuovo ha aggiunto i Brembo, i quali in teoria dovrebbero offrire più performance. Si può dire lo stesso del motore, infatti il bicilindrico parallelo da 900 cm3 ha acquisito ben 10 cavalli adesso. 54 invece sono quelli che ho avuto a disposizione su questo modello e devo dire che nonostante ciò che si possa pensare sono abbastanza e fanno divertire. A contribuire infatti è proprio la coppia di ben 80 Nm a soli 3230 giri. Non solo il motore dalle caratteristiche moderne offre proprio un bel livello di divertimento, ma anche un suono fantastico, specialmente se si considera lo scarico di serie rialzato proprio da stile Scrambler. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Mi è mancata la sesta marcia il più delle volte, quando cercavo proprio di cliccarla su, ma a dire il vero non ne ho mai avuto bisogno. Oltre ciò il cambio è fluido e preciso. È stato davvero facile gestire la Scrambler in città o su strada in un proprio perfette, sia a bassa velocità che da Fermi poi, con la sua sola altezza della sella da 792 mm, non mi sono mai trovato in difficoltà. Tuttavia il peso a secco è piuttosto alto, di ben 206 kg, che per una moto di medio livello mi ha fatto sentire un po' a disagio. In realtà alla guida questo, però, non si percepisce proprio, anzi, se è trattata bene ed in modo giusto, la Triumph Street Scrambler ti darà proprio tante soddisfazioni. Con una corsa lunga di 120 mm davanti e dietro, sono sicuro che l'off-road può essere gestito in facilità, ma con moderazione per mezzo del suo peso e far divertire. La Triumph Street Scrambler è una moto custom moderna con linea retro che fa emozionare con le sue sensazioni di guida di altri tempi. Ma nonostante ciò, Triumph ha aggiunto un livello di sicurezza moderno alla Scramblerina. Infatti si può trovare ABS e traction control disinseribile, oltre al ride-by-wire e frizione altisaltellamento. Le gomme Metzler Tourance di serie non sono affatto male, le terrei per i primi 15.000 per poi sostituirle con delle più orientate allo sportivo personalmente. Oltre questo, le finiture sembrano essere di ottimo livello e proprio da stile Triumph tanti sono gli accessori disponibili che si possono aggiungere dal punto di acquisto. Anche gli specchietti da stile topogigio mi piacciono e la fantastica colorazione rossa di questo modello in prova. Mi resta solo provare la nuova Street Scrambler per poterla confrontare in modo giusto a questa e capire semmai i cambiamenti effettuati possono giustificare la scelta del nuovo piuttosto che l'usato. Ma il nuovo costa 10.900€, oltre a ciò è disponibile anche in versione Sandstorm, la quale aggiunge proprio i beta occhi e un listino di ben 11.500€. Nel complesso davvero ben fatto Triumph. Voi cosa ne pensate? Mettetelo qui giù nei commenti e con questo ragazzi vi saluto. Ti ricordo che se sei nuovo e vedrai più video di questo genere qua, iscriviti a questo canale, metti un like a questo video se ti è piaciuto e seguimi anche su Instagram a gm.moto. Alla prossima, ciao a bella! Ciao a bella!